Il disallestimento di ogni mostra porta con sé una vena di malinconia, perché le opere che abbiamo potuto vedere negli spazi espositivi per alcuni mesi ritornano nei loro luoghi di origine. D'altro canto però c'è un grande entusiasmo da parte di tutti per svolgere il proprio compito. Le fasi di disallestimento e di allestimento sono delle fasi molto delicate e l'attività deve essere svolta con grande attenzione, precisione e professionalità. In questa occasione per il disallestimento della mostra Hans Josefson i tecnici del Masi e restauratori hanno potuto avvalersi della collaborazione di Ulrich Meinertz e Lukas Führer, curatori della mostra, che entrambi hanno lavorato attivamente in prima persona con Hans Josefson alla fusione in ottone delle sculture che avete avuto l'opportunità di vedere qui esposte al Masi. Grazie a tutti.